Ma questo era un po' malurdo o com'era, si può sapere? No, malurdo no, marocchino. Sicuro che era un marocchino? Si, l'ho visto. Non l'ho visto dopo, lì per lì no. Doveva essere un marocchino. Comunque un arabo? Si, si, si. Quindi, si, di quelle persone che vanno in cerca di vivacchiare secondo me. Ma anche di vento perchè per tenere a fuoco termo e fare cose del genere. Mi sembra spaventato perchè è venuto proprio al capezzale. Al letto? Al letto, a letto, al capezzale. Mi dai soldi se non ti ammazzo o ti uccido? Così? Si, così, ti uccido. Mi che non... Si, avevo già il fuoco preoccupatissimo, ma non è stato un istante. Mi sono alzato un pochino con le mani. Ma poi, se l'ho riuscito a tirar fuori i piedi dell'inizuola, ma non a mettermi in piedi. Con i piedi lo scaraventavo e con le mani... Complimenti. Complimenti. Si. E' stato lì, forse lui si è un po'... E dopo vedendo che teneva in mano il coltello. Allora aveva tentato violentemente di buttare le mani, spezzandole anche i bracci. E sono riuscito a strappare il coltello, buttarlo via. Sì. E dopo lì voleva i soldi, voleva i soldi... E gli ho detto... Vattene, 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 vattene... Dunque, Don Mario ce la sta raccontando in maniera molto tranquilla e pacata. Ma in realtà la vicenda è stata molto più complessa e avrebbe potuto avere, diciamo, delle conseguenze più e più gravi. Infatti, questa persona che si era introdotto in casa, quando poi è sfuggita grazie all'errezione di Don Mario, era scappato rubandogli la macchina. E Don Mario non si era accorto di nulla. Il tipo, questo personaggio, ha abbandonato la macchina, aveva avuto un incidente sulla Romea. Questa è la macchina di Don Mario, vedete nell'immagine che è andata praticamente distrutta. La macchina era abbandonata, all'altezza di Rosara, e un chioggiotto è arrivato, c'era la nebbia, e la macchina è luce spente, è andato a finire addosso alla macchina che l'ha praticamente distrutta. E' stato a quel punto che è stata chiamata la polizia stradale di Padova, che ha trovato il tipo responsabile di tutto questo che fuggiva praticamente, che camminava veloce lungo la Romea, e a quel punto hanno chiamato Don Mario e Pinto, dicendo dove è la sua macchina, e questo non si era ancora coso conto che gli avevano rubato la macchina. Quindi, oltre al furto, oltre alla minaccia, oltre, diciamo così, alla minaccia del coltello, un ragazzo di Chioggia avrebbe potuto veramente avere delle conseguenze molto più larvi. Il tipo è stato arrestato e adesso vedremo come andrà a finire. Speriamo che la giustizia faccia veramente il suo corso. Grazie a tutti.